Avvocato e scrittore, Roberto Sciai è giunto alla sua quinta pubblicazione, scritta in collaborazione con Marco Lazzari ed intitolata La profezia perduta di Giordano Bruno. Come nasce e qual è il contenuto di questo libro? Nasce con la passione per un grande pensatore che non è assolutamente inferiore a Galileo Galilei e a Copernico, che soltanto con la prima mente, senza strumenti, ha raggiunto delle vette di pensiero eccezionali e che però è stato sostanzialmente assassinato a causa di congiure interne, cioè contrasti di potere all'interno della Chiesa. Questo libro parla degli ultimi 50 giorni di Giordano Bruno nelle carceri dell'Inquisizione Romana, nel Santo Uffizio, nel Vaticano, e del processo con la relativa condanna a morte. Naturalmente è romanzato, ma tenendo sempre una particolare attenzione a quella che è la realtà storica del 1600. È un romanzo storico con una particolare curiosità però, perché ci sono ben quattro pagine di bibliografia. Sì, io e Marco Lazzari abbiamo voluto restare più aderenti possibile alla storia, quindi consultando dei testi autorevoli e frequentando, come se fossimo studenti, la Biblioteca Nazionale. E per questo, soprattutto, abbiamo tenuto conto dei lavori del professor Germano Maifreda, che è uno dei più grandi studiosi di Giordano Bruno e che è riuscito a capire e a svelare molti misteri del suo rapporto con il suo avversario, che era Celestino da Verona. Una ricostruzione, come dire, molto attenta, molto fedele a quella che è la realtà dei fatti. In sostanza, Giordano Bruno è stato condannato senza essere colpevole. Dopo 400 anni e passa, qual è la posizione della Chiesa? La posizione della Chiesa è la stessa da 400 anni. Lo ha bruciato vivo, senza che avesse nessuna colpa, alla fine di un processo farsa con testimoni inventati. Non riesce a fare la cosa che dovrebbe essere naturale per un'istituzione del genere, chiedere perdono. E diciamo che questo volume è unico nel suo genere perché analizza in dettaglio, come non è mai stato fatto, la figura di Giordano Bruno. Da Ostia per Canale 10, Alberto D'Abbì.